Cari amici della televisione di quotidiana.net, benvenuti per parlare di cinema, per parlare di letteratura insieme con Emanuella Mascherini. Buongiorno. Buongiorno. Emanuella e grazie per essere nostra ospite. Grazie a voi. Attrice, autrice, scrittrice, poetessa, molte cose tutte insieme, Fiorentina. Ha scritto questo libro che si intitola Glass Sealing, oltre il soffitto di vetro, ed è una panoramica sulle professionalità femminili nel cinema italiano, ovvero le donne nel cinema italiano. Esatto. Che cosa racconta? Anzi, se posso permettermi, si presenta ai nostri navigatori? Ciò che odio le presentazioni, comunque ci proveremo, mi sforzerò di presentarmi. Allora sono un'atto-autrice a questo punto, ormai vivo a Roma dal 2001, sono diplomata al centro sperimentale di cinematografia e come prima professione sono un'attrice, quindi diciamo che nei ritagli di tempo attoriali, che a volte sono veramente tanti, a volte però, scrivo, e scrivo di più generi a seconda della necessità che ho nei diversi periodi. Ora, questo in particolare è un libro che parla delle donne nel cinema italiano, è un libro che parte da una tesi di ricerca sulle donne nel cinema, sia davanti che dietro alla macchina di appresa, e approda un'analisi che rivela quanto in realtà negli ultimi trent'anni ben poco si è cambiato, e che le donne in realtà riescono a raggiungere solo una quota del 20% rispetto al totale dei lavoratori del cinema italiano. Ecco, in particolare ci sono alcune donne che sono protagonisti di questo libro per le loro vicende professionali, per la loro carriera, per il modo con il quale hanno raggiunto il successo? Beh, assolutamente sì, perché è un libro che è fatto tutto per interviste di tipo sociologico, quindi per interviste a donne che lavorano dietro e davanti alla macchina di appresa, più che sulla ricerca storiografica, eccetera. Quindi, fra i nomi più importanti, posso ricordare Francesca Archibugi, con la quale ho lavorato in un film per il cinema. Chi si intitola? I Gabbiani, da un adattamento del Gabbiano di Chekhov, lavoro bellissimo in cui facevo sia Masha che Irina, dopo otto ore di trucco perché ci tengo a ricordare che Irina ha 50 anni. Invece lei è giovanissima. Esatto. Anche se posso permettermi, appunto, c'è un moto di curiosità perché lei nella sua biografia è nata a Firenze negli anni Ottanta. Esatto, quindi potrei avere dagli 20 ai 30. Una fanciulla in fiore, assolutamente. Esatto. E quindi, oltre a Francesca Archibugi? Oltre a Francesca ci sono personaggi importanti che lavorano anche dietro, come Cecilia Valmarana, Direi Cinema, Caterina D'Amico, piuttosto che Cristina Zucchiatti. Sono tutti i nomi importanti di produttrici, organizzatrici e altri personaggi che lavorano in tutti i settori del mondo cinematografico. La domanda che uno dei nostri navigatori o navigatrici potrebbe porle, sono una ragazza, voglio fare del cinema, che cosa devo fare? Allora, prima di tutto per me la cosa più importante è andare a Roma. Ora so che questo può essere un po' banale, però è una cosa in cui credo fortemente, nel senso che si può fare anche cinema, studiare anche cinema a Firenze, però, insomma, è come voler far teatro nella stanza di casa propria, insomma. Purtroppo, dico purtroppo perché è molto importante anche decentralizzare il cinema, però i mezzi stanno tutti a Roma. Poi è molto importante anche il lavoro che fa qua la Toscana Film Commission, con la quale collaboro, ci sono dei registi molto interessanti anche qua in Toscana, però ecco, secondo me il primo passo veramente per avvicinarsi è spostarsi dove l'industria è un po' più forte. L'ultima domanda, sicuramente Michele Coppini che sta girando questa intervista inserirà in questo servizio uno spezzone del suo film, Benvenuti in Amore. Lei che ruolo ricopre e come si è trovata con Coppini in questo film? Io mi sono trovata molto bene, credo che sia uno dei registi con cui vale la pena fare un'esperienza qua in Toscana, e anche più di una, speriamo, vero Coppini è un appello questo? E quindi, diciamo, è stato un bellissimo incontro, anche perché il personaggio me l'ha un po' ritagliato addosso, faccio un po' la diavoletta della situazione, ci sono due amiche, una buona e una cattiva, e io sono quella cattiva e acida, non so se è un caso. L'abbiamo studiato insieme lavorando sugli opposti, diciamo. Comunque diciamo che ricatto era che nel prossimo film sarò la protagonista, qui lo dico e qui lo firmo anche, non so se se lo ricordo. Lei prende un impegno, e soprattutto Coppini prende un impegno davanti ai navigatori di quotidiana.net, sapete che come sanno i nostri amici sono diventati ormai milioni, perché essendo inseriti nel consorzio internet Italian News di Sole 24 Ore, significa che abbiamo un bacino di utenza di 7 milioni di utenti unici al mese. Oh mio Dio, ma mi truccavo se lo sapevo! Insieme con i lettori di Sole 24 Ore, Unionesarda.it, iltempo.it, ilsecolodicevano.it, e poi Nazione, Cardino, Giorno e QN, che sono i giornali della Poligrafice. Quindi, Manuela Mascherini, grazie mille per essere stata con noi, e ovviamente auguri di ogni fortuna per tutte le sue attività. Speriamo, grazie.